Tradizionale pranzo sociale dedicato alla terza età a Castiglion-Fibocchi, un'occasione di vicinanza e di omaggio per tutti quei cittadini che con la loro esperienza hanno un ricco bagaglio da raccontare e tramandare. Il pranzo realizzato in collaborazione con Estre Coingas ha visto la partecipazione di tutte quelle associazioni che si occupano di sociale. Siamo arrivati anche in questo 2018 a questo appuntamento tradizionale per la nostra comunità e che mano a mano dà pranzo insieme con gli anziani e è diventato pranzo insieme con gli anziani e con le rappresentanze sociali dell'intera nostra comunità. Questa è una connotazione che noi abbiamo voluto dare a questo appuntamento per ritrovare insieme alla parte più anziana, alla parte con più esperienza a chi può dare lezioni partendo dalle esperienze e dalle tradizioni che conosce insieme a loro le altre rappresentanze sociali, le altre componenti della nostra comunità e insieme ritrovare quella coesione sociale che è necessaria in una piccola comunità come la nostra che è una comunità sicuramente viva, è una comunità solidale, è una comunità operosa ed è la comunità che ci piace per questo quindi anche quest'anno chiudiamo in bellezza direi insieme con i colleghi giovani perché ormai anche io faccio parte di questa categoria e insieme ci scambieremo gli auguri, ci formuleremo gli auguri per le migliori cose che ognuno di noi si aspetta dal 2019.